Musica Buongiorno, bentrovati a Occhio ai Giornali puntualmente tutte le mattine 7.30 qui su Fano TV vi mostriamo il resto del Carlino, Corriere Adriatico in edizione locale con le principali notizie quelle che naturalmente vi facciamo vedere noi sono solo una parte, dopo all'interno ce ne sono tante tante altre e noi però facciamo sempre un sorvolo su quello che è anche l'almanacco del giorno quindi guardiamo almanacco santo e poi anche le previsioni del tempo eccola qua la grafica proposta da Riccardo Sora prontamente, oggi è venerdì 1 marzo la chiesa osserva la beata Giovanna Maria Bonomo il sole è sorto alle 6.44 e tramonterà alle 17.56 spostiamoci al touchscreen per farvi vedere quello che è il prospetto del tempo per le prossime 24-48 ore per oggi vedete tutto all'insegna della variabilità, c'è sole, ci sono nuvole, c'è pioggia, c'è un po' di tutto quindi inizialmente la giornata parte con una stratificazione nuvolosa in transito però è in aumento nella copertura nelle ore pomeridiane quindi cielo nuvoloso in serata e anche i cumuli formi in ingresso dal mare precipitazioni saranno probabilmente presenti nel pomeriggio anche con rovesci e temporali sparsi nei però settori sia settentrionali scendendo man mano verso quelli meridionali compare il limite delle nevicate al di sopra dei 1500 metri le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi mentre in diminuzione nelle massime quindi si accorcia il differenziale, l'escursione termica che in questi giorni abbiamo visto essere veramente importante con punte anche a centro giornata a doppia cifra previsioni per sabato, vediamo il primo giorno del fine settimana anche qui scompare perlomeno nel nostro settore il simbolo della pioggia quindi inizialmente nuvoloso nel settore meridionale della regione e sereno poco nuvoloso altrove diminuzione della copertura nella tarda mattinata e cielo sereno nel pomeriggio anche per il resto della giornata quindi insomma tendenza al bello, le precipitazioni ci saranno anche qui nella prima parte della giornata però vedete nella parte centro meridionale della regione il limite delle nevicate scende attorno ai 1400 metri però questi fenomeni piovosi andranno in esaurimento nel resto della giornata per domenica sole pieno su tutta la regione c'è poco da dire guardate qui la cartina è più esaustiva di qualsiasi altra didascalie quindi insomma perlomeno le scampagnate o le gite anche a Fano per l'ultima domenica di carnavale almeno sono all'insegna sulla carta del bel tempo guardiamo subito i giornali, vi faccio vedere le due pagine di apertura partiamo dal resto del Carlino di Pesaro che mette a centro pagina, a fotonotizia l'arrivo del Play Mark Lyons che arriva e va subito in campo per mostrare di che pasta è fatta e appunto il titolo è questo qui, ecco il condottiero colui che dovrebbe tirare fuori dalle secche la VL però si parla di centri estetici e di Maxi Bancarotta Ateneo e SRL è chiesto il processo, sono spariti 2 milioni di euro e invece a fondo pagina a rischio i treni dei pendolari sospensione di alcuni freccia bianca e vedremo di che cosa si tratta e poi di spalla i comuni ricicloni del nostro territorio che sono stati premiati ieri in provincia da Lega Ambiente vediamo l'apertura però anche dell'altro quotidiano che noi prendiamo in considerazione il Corriere Adriatico che in apertura parla del rogo la discarica che viene presidiata e il sindaco che invita a non mangiare gli ortaggi domato anche l'ultimo focolaio ma l'impianto resta monitorato la fotonotizia invece però è tutta per il Giovedì Grasso Carnevale in piazza a Fano Giovedì Grasso decorato Vulon e Vulona che saranno bruciati martedì per il classico rogo in piazza che chiude tutta la manifestazione i colori dei bambini e poi si parla di tasse Imu e Tasi in sei anni già scovati 300 furbetti siamo a Pesero e poi di spalle fuori il patto di ferro fuori dalla mafia dai cantieri quindi un vertice in prefettura per fare il punto su questo post terremoto due anni e mezzo dal terremoto la ricostruzione arranca all'1% ma sarà bene tenersi pronti a vigilare sugli appalti e sulla longa manus della malavita su questi succulenti bocconi Rischio tagli per i Frecciabianca parla Biancani il consigliere regionale Biancani che ha presentato un'interrogazione per scongiurare questi tagli il problema è che le corse sarebbero sostituite da altri treni ma il nodo è nell'aggravio però dei costi quindi insomma chi prende il treno tutti i giorni ha un costo da sostenere se questo va ad aumentare sono sicuramente problemi per le tasche di molti allarme pendolari quindi c'è aria di bufera andiamo nelle altre pagine sempre all'interno del resto del Carlino crack Ateneo dalla pagina di apertura spariti 2 milioni di euro chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta per i coniugi Mirko e Michela Tonelli un'indagine partita dalla guardia di finanza guai in serie per l'imprenditore dei centri estetici che è finito la sbara anche per una frode con San Marino ancora rimaniamo nelle pagine del quotidiano di Bologna ecco i comuni liberi da rifiuti i comuni cosiddetti ricicloni che raggiungono delle quote interessanti di rifiuti differenziati l'appello di Legambiente che promuove questo premio ai comuni più virtuosi dice c'è ancora ora c'è bisogno del digestore però quindi quello di cui si sta parlando tanto in questi giorni sono quelli che sono stati premiati che hanno superato la quota dell'80% dei rifiuti differenziati da pian del bruscolo l'avete visto anche nei titoli si continua a tenere sott'occhio la discarica di Ca' Asprete che ha preso fuoco nella giornata dell'altro ieri rimangono ancora sotto stretta osservazione i fumi e il materiale andato a fuoco per vedere qual è l'evoluzione c'è fumo freddo come si dice tecnicamente e questo bisogna vedere se calerà o se aumenterà nei giorni prossimi rogo in discarica però il sindaco Francesca Paolucci firma un'ordinanza per garantire in maniera precauzionale la sicurezza alimentare quindi non raccogliete quegli ortaggi sembra quasi il titolo di un film ancora nelle pagine che parlano di questo incendio ma cambiamo testata andiamo nel Corriere Adriatico Ca' Asprete resta presidiata e non mangiate le verdure domato anche l'ultimo focolaio in discarica ieri mattina dai Vigi del Fuoco vengono monitorati gli impianti ordinanza precauzionale diciamolo per non consumare i prodotti della terra e vedremo se verranno fatte anche analisi su suolo e aria da parte dei tecnici di Marche Multiservizi e dell'ARPAM che ha presidiato il posto in rogo per tutta la sua evoluzione rimaniamo a Pesaro sempre Corriere Adriatico municipio più bello sì al concorso e ne auguriamo la stagione delle idee saprete che il sindaco Ricci per mettere mano al municipio la sede municipale e al loggiato ha chiesto un concorso di idee l'ordine degli architetti raccoglie la proposta del sindaco sulla riqualificazione ecco della facciata non mi veniva il termine ma anche San Giovanni sono ripresi i lavori nella chiesa e quindi ci vorranno però almeno quattro mesi per gli interventi che vedranno così la loro conclusione cambiamo testata ritorniamo al resto del Carlino e andiamo a vedere le pagine di Fano si continua a parlare appunto di Aset di gestore di zone dove questo dovrà essere fatto e quindi dopo la replica del sindaco e dei vertici di Aset in conferenza stampa entra in campo anche Lucia Tarsi su questo argomento Fano la città dei rifiuti è inaccettabile centrodestra unito all'attacco del vecchio chiede però di avere una tutela legale nei confronti di Aset accordo si è partiti da lontano per arrivare a questa disamina l'accordo è partito nel 2014 e piano provinciale invece nel 2017 ecco tutti i guai snocciolati nell'articolo di Anna Marchetti poi ancora sanità avete sentito ieri ai nostri microfoni Baldelli che annunciava secondo lui inizio della fine per questo svuotamento dell'ospedale di Pergola siamo a Pergola quindi i lavori al via e piano sanitario però doppia garanzia per Pergola in questo modo Talè blocca le discussioni dice salvaguardia dell'ospedale è nei fatti come sarà poi il rendering e questo che lo vedete è relativo all'ospedale di Pergola una volta ultimati i lavori il fronte però si gioca tutto sulla politica dice Talè basta con gli allarmismi e mero scopo elettorale quello dell'amministrazione a trazione Baldelli quindi propaganda secondo lui ecco qua un'altra intervista a consigliere regionale con delega alla sanità Federico Talè che si esprime anche sul Corriere Adriatico su questo argomento trasferita solo chirurgia dice Talè e quindi facciamo basta con gli allarmismi il consigliere regionale replica a Baldelli dice 4,3 milioni investiti in questo presidio tutti sul fronte della sicurezza e quindi quando saranno ultimati questo sarà un ospedale di grande eccellenza Fano guardiamo Fano anche dalle pagine del Corriere Adriatico Giunta Sovria tutti i guadagni dal lavoro solo per due all'intero reddito dalla politica Serie Mascherin gli unici a mantenersi con le indennità di funzione Cecchetelli è la più facoltosa quindi insomma ci sono snocciolati tutti i tutti i guadagni della Giunta Serie Vice Sindaco fa l'insegnante e anche l'architetto e Del Bianco Caterina Del Bianco ha anche altri compensi però modesti e da Fossombrone arriva un alto là Fossombrone non vogliamo la clinica privata il Sindaco Bonci smentisce Marchegiani nel dibattito tv con Marta Ruggeri festa dal richiamo della prima pagina festa in piazza con i bambini per il giovedì grasso e quindi insomma una piazza come vedete nella foto guardate qui veramente stracolma di bambini parrucche colorate insomma un pomeriggio molto bello per questo giovedì grasso per i bambini tanto colore e naturalmente anche la fascia tricolore per la sorella di Filippo Tranquilli l'anfitrione di Fano l'attore personaggio veramente carismatico che ha raccontato Fano la fanesitudine in tanti modi compianto Filippo Tranquilli ricordiamo è stato il primo in personificare il vulone tre anni fa dal di lì in poi si è partiti con questa maschera quindi insomma un po' del vulone è anche nel ricordo di Filippo Tranquilli compianto attore e fratello di fratello anche della sorella appunto di Filippo eccola qua che vedete ricevere dal sindaco le chiavi della città virtuali e la fascia di sindaco per questo periodo carnevalesco che poi si concluderà naturalmente per quanto riguarda la sua funzione così di sindaco della goliardia martedì c'è politica maggioranza risicata ma d'accordo sui rioni bacchiocchi sulla mancanza del numero legale in consiglio esprime il suo pensiero ci sono pagine di politica anche che sono a vostra disposizione Valmetauro la Colle Marathon vola negli USA podisti partiti per Chattaruga la Colle Marathon ha stipulato da tempo un accordo tra la maratona di Chattaruga e la Colle Marathon e quindi c'è questo scambio di podisti loro una delegazione viene qua e un po' dei nostri vanno là domenica appunto una rappresentazione una rappresentanza correrà la maratona di Chattaruga in Tennessee e quindi poi li vedremo anche loro per la nostra edizione Valefoglia un'auto per i malati di sclerosi multipla il regalo di Cottini e Gea alla provincia donato dall'associazione dopo tre anni di raccolta fondi anche un sostegno del preside della VL Costa insomma ecco questo qui vedete un bel momento della donazione e dell'inaugurazione del mezzo che sarà a disposizione di chi soffre di sclerosi multipla da Urbino guardiamo le pagine le ultime pagine ecco il carnevale degli studenti con trade e frazioni domani nel centro storico centinaia di maschere in gara per conquistare la coppa quindi sarà carnevale attrazione studentesca a Urbino nella pagina invece di Urbino del corriere adriatico medicina i letti sempre occupati il pressing del pronto soccorso è importante quindi si parla di sanità degenza media perfetta ma resta l'emblematico caso del 79enne rimasto cinque giorni nella OBI ovvero sia nell'osservazione del pronto soccorso tra il 20 e il 25 febbraio sono state ricoverate 39 persone e quindi questo è un po' il bilancio di questi giorni guardiamo le ultime pagine vi faccio vedere Senigallia come sempre una vicenda che ci riporta indietro negli anni qualcuno se la ricorderà quando c'era appunto un momento in cui dai cavalcavia volavano massi sassi sono state fatte anche delle vittime per questo modo di passare il tempo da parte di alcuni sasso piomba sul parabrezza autocentrata all'uscita del tunnel siamo nella complanare di Marzocca parla un residente il capo dei vigili dice che faremo degli accertamenti ci sarebbero delle segnalazioni l'ipotesi di una banda di ragazzini con la fionda pensate pensate un po' ancora nella pagina di Senigallia nelle pagine di Senigallia patto tra comune e privato parte un restyling di 900 punti luce siamo a Corinaldo sull'immuniazione e calore nuove caldaie anche per gli edifici pubblici Corinaldo la splendida borgo di Corinaldo con delle mura veramente bellissime che fanno da cintura al centro storico ecco qua ve lo faccio vedere dal lancio della prima pagina il resto del Carlino pagina dello sport Leons il timoniere per la salvezza il play sbarcato ieri subito in campo per l'allenamento giocatore maturo e sveglio dallo sguardo anche truce insomma uno che ne vuole poca dice il giornalista e quindi insomma è uno che però in NBA non ha mai giocato dopo l'università ha fatto una carriera tutta europea e quindi ha conseguito grossi risultati speriamo che tiri fuori dalle secche la VL vedete qui nelle immagini una plastica entrata e momenti di palleggio e di allenamento bene grazie con la speranza che questo play riporti in auge la squadra e il basket pesarese e vi ringrazio per essere stati con noi in questa prima parte di mattina queste erano le notizie così le principali che vi abbiamo mostrato e naturalmente l'appuntamento è rimandato a questa sera con l'informazione con il nostro telegiornale occhio alla notizia questo però è il numero che potete utilizzare durante tutta la giornata in qualsiasi momento per entrare in contatto con la nostra redazione questo è tutto grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie